Allora, questo no. No, questo no, questo no, questo no, questo no. No, niente male, c'è scritto August Boccus Witches. No, ci sono anche le zucche di Halloween. Ma dai, questo potrebbe andare bene per la festa. Lo tengo da parte. Cavoli, però in questa soffitta c'è veramente di tutto, ma di tutto. Ecco perché mia madre mi ha sempre detto di non andarci. È più forte di me, dovevo andare a curiosare oggi. Allora, cos'altro mi potrebbe essere utile per la festa? Oh, ecco gli smalti. Guarda dove erano finiti. Viola. Si intona con il mio rossetto. E chissà di quanto tempo fa è questo. Sarà tutto secco quest'altro. Questo sembra leggermente più nuovo. Un po' rosso. Vabbè, lo porto già. Poi che altro abbiamo decorazioni. Chiusless. Ti ho un calendario del 2001. Ok. Questo fa un bel suono. Ho dubito possa essermi utile oggi. La solita festa di Halloween. Non lo so, sono così stufa. Queste feste ormai sono sempre più noiose. La solita seduta spiritica finta. Tutti mascherati. Io col rossetto viola che non so come altro truccarmi. No, davvero. Chissà. Magari un tempo questa festa aveva un altro significato. Questo cos'è? Profondo. Sembra piuttosto vecchio. E' ancora buono. Chissà a chi apparteneva. pare che un tempo in questa casa abbia abitato una principessa. Allora deve essere stato tutto diverso. Come sarebbe stato bello vivere a quei tempi con quei vestiti così pomposi. Altro che festa di Halloween. Che altro c'è? non ci voglio credere. Io non merito la tombola. E' questo. Questo cos'è? Cofonetto. Cavoli. Sembra piuttosto antico. Avrà almeno un paio di secoli. Magari questo apparteneva davvero alla principessa che è vissuta in questa casa. Magari all'interno c'erano i suoi gioielli e i suoi tesori. Come sarebbe bello tornare indietro nel tempo. Chissà come sarebbe apri gli occhi che se no arrivi in ritardo e chi li sente? I miei genitori? Ok 3 2 1 Sto sognando. Ok 3 2 1 Cosa è successo? Chiaro? Svegliati. 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 8 9 10 11 11 12 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 15 16 16 18 20 18 18 18 19 lunedì 28 ottobre sì, sì 2019 è vidro è un dipinto in un vetro e questo cos'è? è oro e questa è un coltello è freddo questo che cos'è? non sarà venenoso non odora di niente è acqua è acqua è acqua è acqua e tu? tu che cosa sei? è acqua è acqua è acqua è acqua è acqua è diamante nero? no è inutile è acqua che cosa è? oddio mi sta chiamando oddio mio oddio mio I miei genitori cosa diranno? Il ballo? Il mio desiderio è diventato realtà. Via. Via, stupide perle. Yes, stupide percoggiature. 2019, sto arrivando. Adesso, tocca a te. Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista. Oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew. Ah, e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. Penso possano piacerti. Buonanotte. Assolutamente. Buonanotte. 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 Grazie.